Benvenuti a Occhio ai Giornali, cari telespettatori di FanoTV, eccoci qua come di consueto. Siamo arrivati in fondo a questo mese di maggio ma iniziamo una nuova settimana che ci porterà a questo mese di giugno che speriamo sia il mese della ripartenza, il mese delle vacanze, il mese della ripresa. E allora come di consueto partiamo con il santo del giorno e poi il tempo, il santo in realtà oggi la chiesa ricorda la solennità, no, che è questo, della Santissima Trinità. Allora vediamo un attimo, no, oggi è la visitazione della Beata Vergine Maria, questo è un cartello sbagliato, era ieri. Allora andiamo 5.29, 20.45, vediamo il tempo. Allora ultima ora, in arrivo primo caldo estivo, ecco quando sono i picchi previsti, per quanto riguarda la nostra regione possiamo dire che ancora le temperature saranno un po' fresche, ma comunque più si va verso il fine settimana più le temperature aumenteranno, arriveremo verso la fine settimana con 26-27 gradi insomma. Intanto c'è poco da dire perché queste sono giornate come vedete soleggiate per fortuna, ma insomma ecco niente di che, niente di particolare da segnalare, sono giornate queste domani, il primo di giugno con un cielo sereno, poco nuvoloso, praticamente sereno ovunque anche il pomeriggio e le temperature man mano che andremo avanti saranno decisamente più calde. Allora dicevamo comincia la settimana, comincia il mese nuovo e comincia anche questo appuntamento con il nostro Tommy Bagnino che si trova già pronto al lavoro, anche se non è proprio in tenuta. Buongiorno Tommy, bentornato innanzitutto. Grazie, grazie. Allora, non è proprio un'immagine estiva, il 100%, soprattutto perché tu vesti i panni non del bagnino, ma sembra di uno che ancora ha un po' freddo questa mattina alle 7. Sì, e poi comunque oltre al sole, là ancora la team deve portare il segnale, siamo sempre lì, siamo sempre a bramare questo segnale 4G, parliamo di 5G, 8G, ma ancora ci sono delle zone come queste non coperte dal segnale. Comunque, Tommy, per me basta anche questa immagine qua stamattina, purtroppo ci risentiamo domani mattina. L'abbiamo perso, vabbè, intanto questo ci serve per vedere che si inizia questa nuova giornata di sole e quindi anche se il mare sarà un po' difficile. Intanto però guardate sul giornale di questa mattina, su Fano, il lungomare ieri è stato affollatissimo, sul litorale tutto pronto, bagnini ottimisti sulla stagione, garanzie degli stagionali e prenotazioni da altre regioni insomma arrivano anche da fuori, fuori regione, questo è importante anche per il turismo, l'economia locale e insomma nonostante le norme ancora anti-covid in essere, ancora valide, insomma che limitano sicuramente l'attività dei concessioni di spiaggia, però insomma ieri c'è stato un bel fine settimana, qui ci sono alcune fotografie dei vari concessionari, dei vari bagnini, cosiddetti bagnini e poi la passeggiata, vedete, sotto di Sassonia, Fano che ieri era gremita. Andiamo a vedere però adesso i titoli d'apertura, intanto la fotonotizia del Corriere Adriatico di oggi guardate che bellina questa bambina Anita, trionfa lo zecchino d'oro, la star ha otto anni ed è di bel forte dei Chienti ha vinto proprio questa edizione dello zecchino d'oro e tutte le edizioni del Corriere questa mattina giustamente le danno lo spazio per ricordare questo traguardo. Stagionali, allarme personali, i gestori di bar e ristoranti denunciano difficoltà, la trappola dei sostegni ci crea problemi svogliati, non solo i giovani ma anche le persone più esperte e serve quindi una dovuta riflessione anche sui contratti. Insomma manca il lavoro, non manca il lavoro. C'è il lavoro sì, ma la gente non ha voglia di lavorare, è sconfortata, non ha entusiasmo, ha perso entusiasmo. Da domani intanto il ritorno, scrive il Corriere Adriatico dei ristoranti al chiuso. Da domani scatta infatti il secondo giro di riaperture con ristoranti, bar, gelaterie con possibilità di consumazione all'interno, sia pranzo sia cena. Dunque da domani si può tornare a mangiare dentro il ristorante, quindi più si va verso l'estate, verso il caldo, più ti danno la possibilità di mangiare dentro, che è importante, dentro e vabbè. Si può tornare allo stadio, negli impianti sportivi all'aperto, da lunedì 7 invece il coprifuoco verrà spostato da mezzanotte alle 5 per essere definitivamente abolito il 21 di giugno. Lavori per la fibra, Pesaro, asfalti, groviera, buche come i crateri, vedete non solo Fano ma anche Pesaro ha il problema delle buche, incendio in cucina, tenta di spegnerlo sempre a Pesaro, si ustiona le mani, Fano lungomare affollato, l'abbiamo visto, il litorale è pronto, gli operatori sono ottimisti. Ma c'è anche la cronaca, purtroppo, anche oggi, da segnalare un altro incidente sui campi, sul terreno, sui campi agricoli. La vittima è un 67enne di Sasso Corvaro schiacciato dalla sua ruspa, allevatore muore sul colpo. E poi lo sport con la pallavolo, la megabox, pallavolo a Vallefoglia, ora si gode un trionfo meritato, sapete, insomma, la megabox ha vinto i play-off, scusate, quindi è in A1, massima serie di pallavolo. Andiamo a vedere il Carlino, invece, adesso a Strazeneca in saldo, questo è il titolo della fotonotizia, 100 dosi disponibili a Gradara, anche senza prenotazione. Ma vedremo, ci sono alcuni requisiti importanti. Muore schiacciato dal suo trattore, seconda tragedia nei campi in pochi giorni. La vittima è un allevatore di 67 anni di Sasso Corvaro. E poi c'è questa notizia, che arriva sempre da Pesero, spettacoli negli hangar del porto. Un'idea interessante, il Comune ha fatto il sopralluogo, è una location certamente alternativa, cioè quello di fare degli spettacoli all'interno di questi hangar dove si costruiscono gli yacht e questo hangar così futuristico si trova proprio nel porto di Pesero. Bagnini pronti, ma l'arenile è corto, ci serve più sabbia, dicono alcuni bagnini di Pesero. Poi Valentino cambia yacht, il nuovo è lungo 23 metri, ancorato vicino al cantiere Rossini. E poi sul Monte Nerone, il rifugio Corsini, la riapertura segna la rinascita delle aree interne. È stato inaugurato, c'eravamo anche noi di Fano TV. Nei prossimi giorni vi faremo vedere uno speciale, tutto dedicato a questa importante inaugurazione. Lo ricorderete, il rifugio Corsini fu distrutto, rimase coinvolto in un incendio che devastò completamente tutto quanto. La Serie C invece di sport, calcio, purtroppo l'Alma ha pareggiato, ma il risultato non è servito per rimanere in Serie C, con i semiprofessionisti. Quindi è retrocessa in Serie D la rabbia dei tifosi, retrocedere così, dicono, fa male. Poi Megabox in A1, Martina e il coach Fabio, eroi della promozione. Io direi di partire questa mattina con la nostra rassegna, il nostro commento alla stampa. Oggi molte pagine sono sportive, quindi sarà più limitata con le altre notizie. Pagina 13 del resto del Carlino. Intanto abbiamo visto ristoranti aperti anche al chiuso, è la svolta, riaprono gli impianti sportivi outdoor, outdoor si potrà prendere il caffè dentro il bar, quindi al balcone. Tavoli sempre distanziati, via il coprifuoco dal 21 giugno. Il certificato verde per i paesi extraeuropei sarà digitale con il codice da mostrare sul telefonino. Anche per i matrimoni, sia in area bianca sia in zona gialla, dal 15 giugno servirà però il Green Pass. Ma la notizia sulla quale volevo un attimo soffermarmi è questa, perché noi in questa rassegna stampa chi ci segue tutti i giorni ormai lo sa che non abbiamo mai fatto mistero sul fatto che l'idea che il virus possa essere uscito da un laboratorio a Wuhan in Cina fosse più che plausibile. In realtà all'inizio, quando lo dicevamo, lo dicevo da qui, insomma avevamo pochi dati anche leggendo su internet a cercare, a scartabellare nei siti il più possibile affidabile ma comunque sempre con un certo indice di rischio e insomma era difficile avere informazioni anche perché il governo cinese non collabora in questo senso, non lo dico io, lo dice l'OMS ma Guido Silvestri che i marchigiani conoscono bene 59 anni, ieri su Rai 3 ha detto c'è una zona della sequenza del virus della proteina spike 12 nucleotidi che stanno a metà tra la prima e la seconda parte della famosa proteina spike, la S che è una sequenza particolarmente strana da spiegare con un semplice passaggio da un virus all'altro attraverso ricombinazione capite? lo dice Guido Silvestri ma si allunga insieme a Guido Silvestri la lista di questi scienziati che adesso sono dubbiosi sull'origine del SARS-CoV-2 e cade dunque il tabù del laboratorio cosa significa cade il tabù del laboratorio? che se prima Trump ex Presidente degli Stati Uniti diceva secondo me è uscito dal laboratorio Trump veniva messo in croce e quindi perché era un tabù non si poteva parlare ora accade questo tabù e quindi dire che il virus sia nato là e adesso la lista dei virologi si allunga non è più un tabù si può dire si può dire perché si può dire la dittatura del pensiero unico ci dice che si può dire e quindi lo possiamo dire senza timore senza paura di finire sulla gogna mediatico o peggio ancora di venire esclusi dai talk show esclusi dai telegiornali quelli che contano eccetera eccetera ora si può dire è caduto il tabù quindi quindi ci sono ricordiamo è importante c'è una zona c'è un passaggio che non riescono a comprendere o meglio abbiamo trovato una sequenza nel virus strana la parola è questa strana una sequenza strana in una replica naturale cioè se fosse un virus naturale si sarebbe replicato in un certo modo ma siccome qui c'è una sequenza strana vuol dire che qualcuno ci ha messo le mani quando noi parlavamo qui da segna stampa di un virus potenziato e che se fosse così sarebbe stato un guaio ecco questa è la dimostrazione che quello che dicevamo qualche mese fa è vero e quindi che le informazioni che avevo cercato in giro un po' in giro erano vere quindi questo mi fa anche piacere perché è importante le cose che si dicono in un mezzo televisivo bisogna che siano veritiere il più possibile perché altrimenti stiamo qui a spaventare la gente ma lungi da me il voler spaventare la gente ora bisogna tenere a mente qui poi va avanti Guido Silvestri dice noi sappiamo da fonti certe che all'istituto di virologia di Wuhan siamo sempre in Cina si stava lavorando da anni all'elaborazione in vitro di varianti virali in qualche modo artificiali che avevano un'aumentata capacità di infettare cellule umane sia in vitro sia in topi che avevano il ricettore ACE2 dell'uomo messo all'interno del loro organismo bisogna tenere a mente che l'insorgenza della pandemia a Wuhan dove tutto è nato dove tutto è venuto fuori insomma nel famoso market dove si vendevano gli animali vivi insomma lì vanno di moda questi cioè sono usanza si comprano animali con una situazione igienica spesso discutibile comunque bisogna tenere a mente che l'insorgenza della pandemia nel famoso market è avvenuta letteralmente a due o tre chilometri di distanza guarda caso insomma dall'istituto di virologia guarda caso l'ho aggiunto io qualche giorno fa l'americano Metzle democratico esperto di tecnologia e geopolitica ha ribadito le stesse conclusioni di Trump di qualche mese fa dichiarando in un'intervista al Corriere della Sera Pechino ha mentito il virus non è arrivato dal mercato poi ha indicato una percentuale di probabilità all'85% è uscito dal laboratorio di Wuhan all'inizio di aprile anche Ilaria Capua di cui vi avevo parlato diversi mesi fa aveva scritto sempre sul Corriere della Sera sull'ipotesi che SARS-CoV-2 possa essere figlio di un virus generato in laboratorio ora non c'è poco da dire lasciamo perdere andiamo avanti e tanto ormai ci siamo dentro con tutte e due le scarpe e quindi cerchiamo di venirne fuori vaccini AstraZeneca ultimo miglio 100 dosi da smaltire in un mese le fiale avanzate negli ambulatori dei medici di base sono state rastrellate e rese disponibili sapete che il virus scusate il vaccino ha una scadenza quindi esistono queste fiale ci sono un centinaio come scrive Benedetta Iacomucci sul Carlino di questa mattina un centinaio abbondante di fiale di vaccini AstraZeneca che vanno smaltiti somministrati entro il 30 di giugno altrimenti bisognerà buttarli via perché scaduti sono quelli che erano stati distribuiti all'inizio della campagna vaccinale ai medici di medicina generale una fiala ciascuno insieme ad una fiala di Pfizer o Moderna ora capite che per quanto sia molti hanno deciso di non fare AstraZeneca poi in realtà ecco qualcuno ci ha ripensato ed è tornato indietro si è rimesso in fila eccetera eccetera però attenzione torniamo su questa notizia per avere questo vaccino senza prenotazione quant'altro non è che basta passare lì davanti e uno fa il vaccino bisogna avere dei requisiti allora intanto se si ha dai 40 anni in su se si appartiene a una fascia d'età inferiore ma che rientra nelle categorie già avviate quindi caregiver gli insegnanti le forze dell'ordine gli operatori sanitari ecco si può ricevere il vaccino seduta seduta stante quindi è vero che si può fare senza prenotazione però bisogna comunque rientrare nelle categorie per le quali è già stata avviata la campagna vaccinale ok quindi se uno porta il figlio di 16 anni non lo può fare tanto per dire deve essere deve rientrare comunque in quelle categorie già previste in questi giorni intanto a Risto di Pesero si stanno distribuendo massicciamente la seconda dosi di AstraZeneca perché sono passate le 12 settimane dalle prime inoculazioni poi a Macerata Feltria dopo la RSA di Galantara che da qualche settimana è stata riconvertita in struttura covid free anche Macerata Feltria ha potuto da qualche giorno tornare all'ordinaria attività vedete piano piano tutti i vari settori tutte le varie situazioni si smontano le tende fuori del pronto soccorso si sistemano i reparti si chiudono le terapie intensive quindi piano piano si torna anche se siamo rispetto all'anno scorso questo va detto siamo in un po' più in ritardo qualcuno direbbe analizzando così molto sommariamente la situazione ma come mai l'anno scorso non avevamo i vaccini quest'anno abbiamo i vaccini avremmo dovuto essere in anticipo piuttosto che in ritardo questo è vero ma l'anno scorso non avevamo non avevamo le varianti che hanno complicato la questione ora il problema sono le varianti al 90% nelle marche ci sono quella inglese e il 10% l'altra variante ma non c'è quella indiana quindi per fortuna non abbiamo quella indiana però ecco il problema è questo che c'è quest'anno c'è il problema delle varianti che stanno rallentando tutto quanto altrimenti già l'anno scorso eravamo quasi fuori eravamo più avanti rispetto ed ora speriamo speriamo che a ottobre queste varianti non complichino ulteriormente la questione intanto sulla pagina di Fano chiudiamo quindi la pandemia il discorso sulla pandemia è morto il generale Alessandro Paganucci i fanesi lo conoscono bene aveva 83 anni da quando era in pensione dall'esercito si era dedicato ad una onlus che fa tanto bene a Fano non solo la onlus è Adamo e poi si era dedicato anche al Rotary Club lo ricorda Donatella Menchetti questa mattina che da lui ha ricevuto in eredità qualche anno fa proprio la presidenza di Adamo Adamo si occupa dei malati oncologici per noi è stata una colonna portante dice lei perché come generale dell'esercito ci ha insegnato ad essere ligi alle regole corretti nell'impegno e determinati era un uomo cosiddetto tutto d'un pezzo molto rigoroso che però accettava lo scherzo e sapeva stare in compagnia era sincero leale ed allegro i funerali martedì pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di San Pio X nel quartiere Poderino ancora cronaca muore schiacciato dalla ruspa terza tragedia in un solo mese l'incidente è avvenuto a Sasso Corvaro vittima Giulio Mulas allevatore di 67 anni mentre stava pulendo il terreno di un frutteto i soccorsi inutili è morto sul colpo il mezzo si è capovolto su un terreno in pendenza sotto invece da Pian di Meleto la notizia che la strada di San Sisto è stata riaperta dopo sette anni e a metterci la bandierina sopra la deputata Alessia Morani del Partito Democratico che ringrazia due ministri alla difesa e manda una frecciatina all'assessore regionale ai lavori pubblici Francesco Baldelli di Fratelli d'Italia lo ha fatto con un breve garbato video scrive il giornale ricordando a Baldelli di aver detto e scritto cose come sempre poco lusinghiere nei suoi confronti ecco caro assessore che l'intervento l'abbiamo completato come promesso ai cittadini e ci aspettiamo che lei torni in questo territorio non solo per fare propaganda elettorale ma anche per dare una mano concreta a risolvere i problemi è stata da una parte la Morani ha tirato una frecciata all'assessore regionale dall'altra invece dà una stretta di mano virtuale un bravo un plauso al presidente della provincia compagna ovviamente di partito che è il presidente Paolini dice Paolini ci ha dato una grande mano come provincia ovviamente essendo il presidente della provincia di Pesaro Urbino sia per gli uffici sia per l'ente e poi ringrazia ovviamente i due ministri per i fondi anche sul Carlino c'è la notizia di Cronaca schiacciato dal trattore orribile fine di un allevatore a Sasso Corvaro ecco la foto dei pompieri che insieme al 118 ieri sono intervenuti i pompieri hanno rimosso il trattore che ha schiacciato purtroppo questo agricoltore del 54 residente a Cagliacomo e poi carabinieri che hanno sequestrato ovviamente il mezzo poi la tombaccia invece torniamo qui a Pesaro scintille dalla stufa cucina a fuoco anziana portata in pronto soccorso ne parla anche il corriere adriatico incendio in cucina tenta di spegnerlo e si ustiona le mani intorno alle 14.30 in un'abitazione a Tombaccia in via Carpegna 37 le fiamme si sono sprigionate in cucina e ben presto si sono sviluppate e hanno provocato insomma un denso fumo poi un altro incendio è riguardato invece un'abitazione a Tavuglia poco dopo le 4 del pomeriggio fortunatamente i pompieri hanno appurato con le fiamme erano state già circoscritte in qualche modo e avevano interessato alcuni cartoni sono arrivate anche le prime meduse in spiaggia qui ci informa il Corriere Adriatico di oggi sempre sulle colonne delle pagine pesaresi già individuate in mare un vero weekend da spiaggia con anche il debutto delle meduse poi schianta la rotatoria due feriti in ospedale ancora crona che ha dal Corriere Adriatico un grave incidente accaduto nella prima serata di sabato nella zona di Santa Maria delle Fabrecce in collisione una bicicletta elettrica e una moto per cause che sono ancora in vaglio della polizia insomma lo schianto è venuto intorno alle 20 sulla rotatoria di Vismara mentre la pagina 7 del resto del Carlino pubblica le fotografie di questo importante evento che anche qui dà una certa speranza per tutta l'area del Monte Nerone che è un'area stupenda riapre il rifugio risorge il turismo area di festa sul Monte Nerone alla cerimonia anche il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli c'è stato questo taglio del nastro atteso ieri mattina con il presidente Acquaroli poi c'era anche della zona Mirco Carloni Giacomo Rossi insomma Piero Eugenio Burani presidente delle Sciovie insomma un appuntamento importante perché insomma tutti ricorderanno e tutti ricordiamo quando lo stesso rifugio Corsini il 19 luglio del 2017 fu interessato da questo incendio che distrusse mandò in fumo 50 anni di lavori e di fatiche poi è arrivata invece anche tanta solidarietà da parte delle istituzioni da parte delle persone comuni e quindi insomma tutto questo è potuto ripartire tra l'altro c'era anche il presidente tra i vari politici eccetera l'ex presidente vice presidente anzi del consiglio regionale Renato Claudio Minardi che durante la passata legislatura si è impegnato a fondo per dare una mano e per far ripartire questo rifugio intanto eccolo qua l'hangar quindi dalla montagna torniamo di nuovo al mare questo è l'hangar dove all'interno si potrebbero organizzare eventi eventi e spettacoli all'interno di questo hangar sopra il luogo dopo la matta idea del comune Vimini e Palacio quindi vice sindaco e sovrintendente del Roff Rossini Opera Festival hanno visionato la location proposta interessante dice le strutture si prestano allora vista da fuori non è male da dentro oppure se l'acustica credo sia un problema più che altro di acustica lo permetterà credo che sia una situazione molto bella tra l'altro questa è la foto che riguarda un altro evento vedete che è stato organizzato proprio là dentro anche noi eravamo presenti con le nostre telecamere questo evento e devo dire che l'impatto era notevole ad agosto il cantiere ospitò un concerto per presentare l'avanzamento dei lavori mentre sempre sui giornali di questa mattina la pagina di Urbino uomo d'arme di cultura festa per il duco Federico la manifestazione di Ars dal 5 al 7 giugno coinvolge gli studenti con la sinergia ovviamente istituzionale poi sulla cattura dei cinghiali vivi sempre ad Urbino c'è una comunicazione dell'assessore il sindaco ha fatto predisporre alcune gabbie affidando l'incarico ad una ditta specializzata e dunque nei giorni insomma attenzione perché ci sono queste gabbie in giro per Urbino che serviranno a questa ditta specializzata per la cattura dei cinghiali che cominciano a essere tanti lo ricorderete insomma ad Urbino ce ne sono alcuni che viaggiano anche per le vie del centro storico ogni tanto si fanno una passeggiatina e allora siccome sono tanti non si possono uccidere vanno catturati vivi vengono messi in queste gabbie poi dalle gabbie caricate su un camion e portate mi pare in Toscana se non ricordo male due anziani vengono fatti crescere e poi chiaramente finiranno in padella pur l'eroro ma non vengono uccisi da piccoli due anziani truffati e derubati invece siamo a Senigallia una donna si finge direttrice di banca e raggira le persone che avevano ritirato i soldi al banco ma due anziani truffati in 48 ore adesso indagano i carabinieri una truffa studiata nei mini in particolari messa a segno da due malviventi che si sono spacciati per i dipendenti di un istituto di credito quindi una banca e hanno chiesto agli anziani di restituirgli il denaro ritirato allo sportello pensate un po' ne inventano una al giorno e questa è la storia poi i loro poverini sono anziani quindi capacità di reazione di critica ce ne hanno poca e quindi si fidano e ci cascano allora direi che possiamo fermarci qui no abbiamo l'ultima pagina pagina 29 che è quella dello sport pagina triste per lo sport fanese fanno ipotesi di pescaggio dopo la dolorosa retrocessione serie D la società sembra decisa non lasciare nulla di intentato restano i cocci di una caduta tra i dilettanti che nonostante tre allenatori cambiati non si è riusciti ad evitare l'ultimo è Tacchinardi che però puretto anche lui non poteva fare di più alma tutti i motivi di una retrocessione invece il Carlino i fanesi non chiedono solo un'assunzione di responsabilità ma tendono di conoscere perché si è giunti ad un risultato negativo però è bene dirlo e lo dico con le parole di Silvano Clapis in fondo si tratta solo di un piccolo dramma sportivo quello della retrocessione dell'alba dalla serie C ai dilettanti ma siccome si tratta comunque di una società importante una delle più antiche d'Italia è chiaro che è una cosa che dispiace però parliamo sempre di calcio cioè tifosi granata col morale sotto i tacchi ci amarezza l'ambiente ora spesa in una svolta e chissà magari in un ripescaggio l'ultima è per il Fossombrone dai strappa il pare ad Ancona altro che serie D Fossombrone che ad Ancona pareggia 0 a 0 noi ci fermiamo qua vi ricordo stasera l'ultima puntata di Primo Cittadino con il sindaco di Fano Massimo Serri poi l'ultimo giorno della Maratona del Rosario Mondiale con Papa Francesco in diretta dalle 17.45 dei Giardini Vaticani arrivederci